guarda che roba belli da qui sembra davvero niente male c'è qualche esemplare piccolo ma vedere quel tavolo pieno è incoraggiante controllali uno per uno scarta le femmine ce ne sono ancora quindi controllali di nuovo anche quelli che ti passo controlla che non siano femmine ok luke deve selezionarli e contarli non sono molto tranquillo spero che luke scarti i granchi più piccoli altrimenti pagherò una multa di 20 mila dollari per aver pescato granchi piccoli i granchi reali per essere legalmente pescati devono avere un'ampiezza di 16 centimetri e mezzo gli esemplari femminili e quelli piccoli vengono rimandati in mare ascolta luke controlla con attenzione le misure di ogni granchio ricontrolla bene cosa finisce in stiva 44 per essere un salto nel buio è un ottimo risultato sempre se continua così e poi sì sì sono soldi anche questa promette bene magnifica è mezza piena è mezza piena Grazie a tutti